Trend, sondaggio Utrend, possiamo vedere il tweet anche in questo caso, elezioni comunali a Roma, il candidato del centrodestra Michetti 31%, Gualtieri, centrosinistra PD 27%, Movimento 5 Stelle, Virginia Raggi 19,1%, Carlo Calenda azione 18,9%, altri 4% e poi il dato che balza all'attenzione di tutti è quello finale tra indecisi e astenuti, il 44,1%, quindi quasi una persona su due tra quelle interpellate, non sa chi votare, non sa se andrà a votare. Marco, cosa ci deve colpire di questo sondaggio? Allora, colpisce intanto il dato di Michetti, che è un candidato che non viene votato da quelli che votano i partiti della coalizione centrodestra, se Utrend ci ha fornito anche i dati delle liste di partito e se si va a fare la somma, Michetti è molto sotto, ma soprattutto il dato del 44% di indecisi, mancano tre settimane al voto e quel dato dice che la situazione non è ancora così stabilita o stabilizzata, come sembrerebbe dire questo dato, soprattutto perché il candidato sulla carta più forte, almeno al primo turno, quello del centrodestra, non riesce a decollare, anzi sta sprofondando e questo libera dei voti che in quale direzione andranno, questo può riaprire la partita. E quello che succederà su Roma in particolare, quanto può incidere sull'equilibrio del governo? Beh, se il Partito Democratico conquista il Campidoglio con Gualtieri, è naturalmente eletta, viene eletto deputato nel collegio di Siena, se queste due condizioni si realizzano il PD si rafforza molto e va allo scontro sul Quirinale con minori complessi di inferiorità di quanti ne abbia avuti nell'ultimo anno.